In una ciotola dividere i rossi dai bianchi Sì vabbè, pizza! Laura, non bere il mio latte, che costa un casino! Non ci posso credere! No, non ci posso credere! No, no, non ci posso credere! Pronto, pizzeria? Posso ordinare 15 pizze? Si possono sordidare? Come no? Ah, scusa, ti chiamo dopo? Pronto, posso ordinare dei sushi? Me lo portate a casa? Come no? Laura, vieni a cena con me? No, 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 grazie! Mi sono fatta un po' di pasta! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.